Aumentano gli occupati nella BAT, la conferma arriva dall'Istat. Nel 2017 l'occupazione è cresciuta in Italia del più 1,2%, nella BAT del più 2,3%. I dettagli nel servizio. L'Istat ha diffuso i dati sul mercato del lavoro relativi al consuntivo 2017. Il quadro che emerge è sostanzialmente positivo e conferma la ripresa in atto anche in Italia, dove l'occupazione nel 2017 è cresciuta del più 1,2%. La ripresa ha interessato anche la BAT con un più 2,3%, mentre la Puglia nel suo complesso ha registrato solo uno 0,3%. A livello provinciale, gli occupati nella BAT sono cresciuti di 2.500 unità, registrando così una crescita del 2,3% rispetto all'1% in più della media nazionale. Questo in un contesto regionale che ha visto una crescita di occupazione di appena 3,8 mila unità, come saldo di una diminuzione di occupati che ha interessato Foggia, Lecce e Taranto e un incremento di occupazione che ha interessato, oltre la BAT, anche Bari e Brindisi. La crescita di occupazione della BAT è il risultato di due dinamiche opposte. Da una parte è cresciuta l'occupazione nei servizi, dall'altro è diminuita l'occupazione nel settore primario e industriale. La gran parte dell'occupazione è comunque di sesso maschile, con più di 75 mila unità, contro appena 36 mila di occupati di sesso femminile. Complessivamente il tasso di occupazione è passato dal 41 al 42,4%. Con la crescita dell'occupazione, la BAT ha visto diminuire il tasso di disoccupazione, che si è attestato poco sotto il 18%, contro l'11,2% della media nazionale, il 6,9% nel nord Italia. Particolarmente grave rimane la situazione della disoccupazione giovanile, che mostra un valore più contenuto, ma in aumento rispetto al 2016. Ma l'indicatore più affidabile per valutare lo stato di salute del mercato del lavoro è quello del tasso di inattività, che registra la quantità di persone inattive. Tra queste ci sono anziani, bambini e giovani che non hanno raggiunto i 15 anni d'età, ma vi sono anche persone che, pur essendo in età attiva, non si affacciano sul mercato del lavoro. Quindi, in conclusione, per quanto il mercato del lavoro abbia registrato qualche segnale di miglioramento nel corso del 2017, la situazione rimane sicuramente critica. Particolarmente critica è la situazione dei settori primari e industriali, che complessivamente hanno perso nel corso del 2017 oltre 7.000 posti di lavoro. Settori che hanno parzialmente resistito solo per le buone performance registrate sui mercati internazionali. Una ripresa più sostanziosa dei settori primari e industriali rimane dunque la grande sfida per l'economia della BAT. Una sfida che può essere vinta solo se il mondo imprenditoriale e sindacale, col sostegno delle istituzioni, riescono a tracciare una strategia futura che punti molto sui settori a più alto valore aggiunto che possono creare anche occupazione.